i paraguaiani del club nazionale, Roma che crea tanto il primo tempo non riesce a concretizzare poi al dodicesimo della ripresa, fallo di mano in area del centravanti Franco del club nazionale peraltro Gianmonieto, secondo cartellino giallo, espulsione e calcio di rigore per la Roma che dunque ha l'occasione con Ciciretti di sbloccare il risultato, il numero 5 della Roma in questo torneo numeri fissi, va a segnare spiazzando il portiere Ramirez il gol del vantaggio poi Roma che non riesce a segnare il gol del 2-0 nonostante tante occasioni viene raggiunto proprio al novantesimo dal club nazionale, sembra finita tra l'altro al ventesimo aveva fatto il suo esordio con la maglia della Roma anche l'uruguayano Nicolo Lopez ha fatto vedere anche un paio di buone giocate ma al novantatresimo arriva il gol vittoria qui nasce tutto da Ferrante, altro ne acquisto, l'italo argentino classe 95, va a cogliere il palo poi il tiro di Lonardi, leggermente deviato, si insacca alle spalle del portiere paraguaiano e dunque 2-1 per la Roma comincia bene il torneo di Viareggio per la formazione di De Rossi tra l'altro nell'altra partita Santos Laguna e Virtus Entella hanno pareggiato 1-1 quindi già capolista del girone alla formazione di Alberto De Rossi che vuole provare ad arrivare fino in fondo a questa competizione visto che già in campiato è prima in classifica, oltre a essere campione d'Italia è arrivata la finale di Coppa Italia dunque comincia